L'evento è nella sede dell'Anfas Melograno di Abbiategrasso e il giorno è domenica 14 a pranzo. Questo è un evento che ci siamo inventati per raccogliere dei fondi che sono veramente necessari a questa Onlus che dà un apporto notevole a portare avanti un lavoro verso dei bambini di cui ne hanno estremamente bisogno e le necessità sono tante. Il mio apporto è l'apporto del mio lavoro. Io sono cuoco e preparerò un pranzo. Ho già ideato un menu. Questo menu è composto da una brandà di stoccafisso. Brandà è un po' un francesismo. Per chiamare un piatto che è un piatto ligure, però è un antipasto delizioso, veramente. Il primo piatto che serviremo è un risotto, siamo con i piedi nel riso, quindi è un risotto alla zucca, visto che siamo in stagione, con una crema di gorgonzola. La carne e il piatto forte sarà la guancia di vitello. È una guancia di vitello che viene brasata con il vino rosso, in questo caso è un gutturnio, però diamo una nota speziata al tutto aggiungendo dello zenzero fresco e del cardamomo. Seguirà il dolce per finire, che sarà un dolce eseguito dalla miglior pasticceria di Abbiate Grasso, che è la pasticceria Vesuschio. La cosa più importante è venirci, per dare un apporto a questa giornata di beneficenza, che però allieteremo con un buon menù e quindi chi viene spendrà bene i suoi soldi, non è che sono sprecati.